Ti piace arrabbiarti? Se la risposta è sì, smetti di guardare questo video. Stai perdendo tempo. Se la risposta è no, ti invito a dichiarare adesso a te stesso e alla vita che d'ora in poi farai di tutto per vivere serenamente e non alimenterai mai più energia rabbiosa. Questo non vuol dire che non ti altererai emotivamente mai più. Significa però che d'ora in poi osserverai ed ascolterai gli altri e le circostanze della vita senza giudicare. Vorrai comprendere, capire e crescere. E se qualcuno si comporta in modi che non ti piacciono, comunicalo. Con gentilezza, con apertura e con fermezza. E se qualcuno si comporta in modi che ti piacciono, anche comunicalo. Normalmente, dalla vita, noi riceviamo le cose che sappiamo di volere e per le quali siamo in grado di esserne grati.